Sono 2500 gli infermieri nella BAT, tutti anche in questo territorio devono conoscere il nuovo codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale lo scorso 13 aprile del 2019. Arriva dopo 10 anni ed ha integrato tutto ciò che riguarda le leggi, regolamenti e situazioni che si sono succedute nel tempo. Si tratta cioè di regole riviste e adattate ai nuovi bisogni di salute che la società esprime ad un sistema sanitario sempre più evoluto. Sono state alcune norme importanti per la sanità, quella sulla sicurezza degli assistiti, la responsabilità delle professioni, quella sulle disposizioni anticipate di trattamento, per cui insomma una serie di normative che hanno imposto una riflessione, un'attualizzazione rispetto al nostro codice di deontologia e poi un'evoluzione anche rispetto ai bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione dei nostri assistiti, quindi l'evoluzione in maniera esponenziale, l'incremento esponenziale delle patologie croniche che si portano dietro condizioni di fragilità e di disabilità, un'evoluzione anche dei livelli formativi della nostra professione, quindi delle cresciute competenze anche in ambiti specialistici. Per cui si è, come dire, voluto reinterpretare il mandato professionale prioritario della professione infermieristica alla luce di queste innovazioni. L'infermiere, diciamo così, del futuro qual è? È un'infermiere che ha una forte consapevolezza della propria disciplina, dell'assistenza infermieristica, è un'infermiere che ha una forte consapevolezza del valore prioritario che ha nell'instaurare una relazione di cura con la persona assistita, prendersi cura, così dice il nostro codice deontologico, ma così dice anche la nostra disciplina, quindi nell'identificare i bisogni di assistenza infermieristica e nel pianificare i conseguenti interventi assistenziali. utilizzando la scienza e utilizzando un approccio deontologicamente corretto. Nella sala rossa del Castello Svevo di Barletta l'Ordine della Bata ha organizzato un evento formativo perché il codice è considerato un vero e proprio vademecum della professione. L'obiettivo ovviamente è quello di portare nella comunità professionale di questa provincia quali sono le novità che offre e quindi aprire un dibattito su questo nuovo codice deontologico, quindi un dibattito attivo da parte di tutti, sia gli attori principali, quindi gli infermieri, ma anche i politici, i cittadini. Quindi abbiamo invitato tutti, credendo appunto di poter coinvolgere insieme agli infermieri, anche i cittadini e soprattutto i politici, affinché venga riconosciuta la professionalità e la professione infermieristica. Grazie.